Buonasera e benvenuti in un'altra puntata di S.S. Aghezzo TV. Più di un anno fa insieme a Beppe Marconi eravamo stati a Vado, nel comune di Monte San Savino, lungo la strada regionale 73, dove da anni questa strada era chiusa, così come erano inutilizzabili alcuni posti auto. Tra poco vedremo che la situazione per fortuna è cambiata in questi giorni, forse anche dopo la nostra trasmissione, ma risentiamone alcuni passaggi proprio di S.S. di oltre un anno fa. Ci c'è tutto, e non si capisce come mai, cioè non l'hanno mai aperta, inaugurata. Boh, che mancano qualche problema di collaudo, però non so neanche se sfonda questa strada e dove porta, perché vedo che i gas laterali hanno i loro accessi non da qui. O questa è una l'utilizzazione completamente da fare e si è fermato tutto. Eh sì, perché c'è i tubi che vedi che sbucca per un fuoco. Il tubo della crisi, quindi è figlia della crisi. Però anche se le case non sono state, magari ci dovevano sorgere altre case qui, però la strada è percorribile, perché non viene aperta? Eh, magari però, se non serve nessuno, non la tengono aperta apposta, perché magari l'illuminazione è spenta, e magari ci sono altre piccole opere da fare. E in effetti, vedi, le aperture che sono all'ato della strada ti fanno capire che qui doveva nascere qualcosa. L'abitazione o delle aziende. Invece è tutto fermo. Non lo so se è una zona artigianale oppure è una zona da civile abitazione. Questa sicuramente niente. È una notiziazione che, da fatto le opere di urbanizzazione, è poi mai partita. Eh sì. Mai partita. E mai inaugurata. Purtroppo mai partita. E quindi la lasciamo così. E siccome non serve a nessuno la tengono chiusa. Ma c'è tutti i lampiò. Perché, essendo da fare tutte le fabbriche lateralmente, o le case, non è stata collaudata, e quindi il comune non la prende in carico, e non prendendola in carico rimane chiusa. Eh sì. Poi c'erano anche questi parcheggi, magari potrebbero anche essere utili, aprirla almeno qui, questo pezzo qui. Eh, sicuramente sì, perché poi la gente più ci sta tanta, vedo un tonno, potrebbe essere utile anche per loro. Ma sai, se non è collaudata, non può essere aperta. E quindi, perché poi la deve prendere in carico il comune, dopodiché la manutenzione passa al comune. Ma se questo non viene fatto, non può essere aperta assolutamente. E dopo oltre un anno dalla nostra puntata di SOS Arezzo TV, ecco la situazione oggi, finalmente, dunque, è stato aperto, come da noi richiesto, proprio nella puntata di SOS Arezzo TV, questo spazio che è stato chiuso per anni, e che se non altro permette alle auto, che magari arrivano in zona vado e non sanno dove parcheggiare, e di poter parcheggiare. Vedete che ci sono tanti posti auto bianchi, che erano stati fino a questo momento inutilizzati e inutilizzabili, e che adesso potranno essere usufluiti. Era un peccato che quest'aria è davvero chiusa, senza particolari motivi, e che ora, ecco, è assolutamente utilizzabile da chi vuole lasciare l'auto. Poi c'è questa salita, questa strada, che rimane, come vedete, sicuramente non completa a livello anche di urbanizzazioni. Qui probabilmente dovevano sorgere una serie di case che non sono mai state realizzate. Probabilmente per la crisi ci sono ancora, vedete, questi tubi per allacci che non sono mai stati fatti, però se non altro anche questo tratto di strada è stato aperto. E dunque quella che sembrava una situazione immutabile quando eravamo stati qui appunto un anno fa è cambiata per fortuna. Qui ci sono delle case che si trovano appunto accanto a questa strada. Qui siamo nella regionale 73 dove le auto non mancano. E però, ecco, chi magari vuole avvicinarsi a Vado deve andare a trovare qualcuno, cioè comunque anche qualche piccola attività lungo la strada, può parcheggiare in questi posti auto bianchi che erano fino a questo momento inutilizzabili. Quindi siamo contenti che anche dopo la nostra trasmissione SOS Arezzo TV ci si sia ricordati di questa strada chiusa. Noi torniamo domani sera con una nuova puntata di SOS Arezzo TV sperando di potervi dare altre buone notizie. SOS Arezzo TV